Strade abbandonate a Montenero di Bisaccia e questa la critica mossa dal gruppo di minoranza in municipio. Non si fa attendere la replica del primo cittadino Nicola Travaglini. La consigliera di minoranza al comune di Montenero di Bisaccia, Valentina Bozzelli, denuncia il grave stato di degrado ed abbandono in cui versano le strade del centro abitato. Parlano le foto e le numerose segnalazioni dei cittadini invitando l'amministrazione a programmare la manutenzione ordinaria della viabilità cittadina e del territorio comunale da troppo tempo abbandonati. In queste ore però non è tardata ad arrivare anche alla risposta secca del primo cittadino Nicola Travaglini e della sua giunta che ribadiscono il lavoro svolto e programmato già da tempi precedenti andando così a smentire le accuse della consigliera. A continuare a vedere reiterate nel tempo queste notizie comporta una doverosa precisazione da parte di chi si occupa di programmare le attività di pulizia e manutenzione del verde. Travaglini nel precisare la sua posizione comunica che i lavori sono stati già programmati da tempo ed è stato stilato un programma dedicato proprio alla rimozione delle erbacce che proliferano normalmente in questa stagione ai lati delle strade comunali. Sulla base di questo programma quindi sono stati avviati i lavori di pulizia che stanno procedendo per zone. In ogni caso dice in ultimo il primo cittadino nei prossimi giorni arriveremo gradualmente in ogni zona del paese.